Ciao, sono Giancarlo Gommare. Il mio personaggio si chiama Antonio. Antonio è un ragazzo super sensibile e insicuro ed è un personaggio che per trovare la sua di personalità si aggrappa spesso a quella degli altri. In questo film, in questo percorso, lui affronterà varie sfide in cui appunto dovrà mettersi molto in gioco e poi chissà se alla fine riuscirà a trovare se stesso. Azione! E quindi mi sono vestito e sono venuto a casa. Perché non vuoi dirci come si chiama? Ma che te fredda, Cri? È importante che glielo date a qualcuno, no? La signora! Era ora. Eh, grazie. Sì, vabbè, ma chi è? Uno, chi è? Uno. La sfida più importante che possiamo affrontare nella nostra vita è quella della ricerca del vero sé. Forse la ragione per cui ho scelto questo film è perché si parlava di questo. Ciao! ... Grazie a tutti.